AAAAAH! NO! Ahahahah! Ma che cazzo? Erick quante cazzo di volte ti torno a dire che devi smettere di farmi i cazzi i peni dentro casa? Ma come cazzo ti permetti? Non capisco Abbottanti salutazioni Clapproni e bentornati in questo nuovissimo video nuovissimo episodio della serie di GianniCraft, che ho deciso di chiamarla così la serie con meno views del canale! Nell'ultimo video io non vi ho chiesto i like mi sono completamente dimenticato di chiedervi i like per portare avanti questa serie perciò questa volta sono costretto a chiedervene di più, mi serve una misura sovversiva. Ragazzi la serie continuerà al raggiungimento dei 100 like sotto questo video, 100 like e arriverà il prossimo episodio della GianniCraft Dunque, oggi cosa andremo a fare? Allora, se vi ricordate l'ultima volta abbiamo costruito, almeno io ho costruito voi avete guardato il risultato perché non avete visto quello che ho faticato, ho lavorato duramente per ottenerlo, però voi non l'avete visto avete visto il risultato. Abbiamo costruito la G enorme punto segnale di riferimento della nostra casa per riconoscerla da ovunque Oggi invece come avete sicuramente capito abbiamo bisogno di alcune risorse che non abbiamo ancora trovato ed è per questo che andremo ad esplorare queste due caverne che abbiamo proprio di fronte casa, per fortuna, alla ricerca di qualcosa di vero. Adesso mettiamo le torce qui sulla mano sinistra, almeno tu ti levi e via. Acqua di merda, sempre in mezzo via, via, levati dal cazzo via. Oh, già iniziamo ma quella è una strega, ma già cominciano da qui, già, scendere con sicurezza è il primo obiettivo per rimanere salvi da questa avventura. Permesso? La strega non mi ha visto Oh, oh, ma quanti colpi servono? Oh, oh Eh, vabbè, eh, vabbè, eh, la madonna Oh, oh Aiuto Quanti cazzo sono? Nooo No, no, sono spawnati in culo Sono spawnati in culo Non ricordo più dove cazzo era la casa Maledetti, infami traditori Ragazzi, c'è solo una cosa da fare per poter ritrovare la casa Non è lontana casa nostra, quindi basta guardare in lontananza, molto in lontananza Oh, attenzione, ah, è qui era Che cazzo, che cazzo l'ha vista Comunque sono stato brutalmente assassinato, pugnalato alle spalle da dei stupidi zombie inutili Maledizione Non torniamo impreparati però Prendiamo qualcosa che ci può fare comodo Come una bella spada Che cazzo C'è la mia roba Oh, oh, un altro assassino Ah, eh, metà vita Eh, no, vabbè, dai Scherziamo? Ho perso le frecce No, cazzo Ah Ah, eh, vabbè, vabbè Vabbè, fa salta tutto, fa salta tutto Mi feca un cazzo Ma lo sniper no però Prima lo sniper, prima lo sniper Lui è incassato lì Ah, oh, ma basta Oh, oh, oh Non è possibile Come sei liberato Questo gioco è diventato Per magia così difficile Ma non è che ho messo io qualche No, la difficoltà è normale Guarda il cazzo Non ho tempo da perdere Via Aspettate qua fuori Se non vi dispiace, eh Nooo Nooo Via Vado in retro Eh, bravo Vai via, vai via Rifugiamoci sul Gianni segnale Ritirata Oh, ma questo è stato un aiuto Maledetti Andate di sotto Via Oh, stronzi Non ce l'ho la cosa per farmi il letto Porca miseria Come faccio? Fa la guardia alle mie cose Guarda lì Inizierà mai sto cazzo di video Posso iniziare? Dovrò accattare tutto il carbone possibile Questi stronzi Mi hanno fatto saltare pure le mie torce Maledetti Cazzo è sto posto? Che è l'arena della battaglia? Mancano solo i graditori qui in mezzo Sento i passi Le ossa dei morti che si muovono Se può? Permesso? AAAAAH! NO! AAAAAH! AAAAAH! Siamo a livello 13 AAAAAH! AAAAAH! Ma addirittura è sopra Qualcosa qui per caso? È un cazzo di niente Sembra Quindi è giunto il momento di andare a controllare qui allora Permesso? Dimmi a me che c'è qualcosa di utile qui in fondo però Sembra questo ferro che sì Vabbè alla fine è buono Però noi stiamo trovando una marea Voglio trovare qualche diamante Qualche stanza del genere Però non riesco a trovarlo L'ho trovato anche qui Sta caverna è un fallimento C'è nulla Però sento l'acqua qua sotto Porca troia Si aspetta la videocamera Che cazzo? Stavo dicendo una cosa importante Perché porca troia Abbiamo trovato questo Guardate qua OOOH! Però ci voglio veramente Dieci episodi a guardarla tutta A sta zona Impossibile Proprio quando stavo per rinunciarci Vabbè dai Abbiamo trovato un cazzo Ragazzi in questo posto ci torneremo Per capire che ci siamo stati Mettiamoci questo più Fatto così Con una bella torcia al centro Per ricordarci Che qui è dove dobbiamo andare Ad esplorare Mettiamo in un'altra Così ci ricordiamo Che era qui il punto Direi che è giunto il momento Di tornarci a casa Dai abbiamo trovato comunque Parecchio ferro Quindi sono soddisfatto Sono soddisfatto Viè Facciamo tutto quanto qua dentro Ufff! Wow! Che cazzo di episodio! Ragazzi a questo punto direi Che come episodio Può anche bastare Lo so probabilmente Non sarà durato molto Ho registrato per veramente Un sacco di tempo Però ho dovuto tagliare un sacco di parti In cui camminavo per tornare alla casa Comunque Quindi io spero tanto Che l'episodio vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un like Arriviamo a 100 like Come vi ho già detto Per poter continuare la sera ragazzi 100 like Ricordo a tutti voi Che in descrizione trovate i link Per i miei social Facebook Instagram Tutto col cazzo che vi pare Mi raccomando seguitemi lì Per rimanere sempre aggiornati Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per ricevere tutte le notifiche Come al solito Vi ringrazio in maniera abbondante E noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 ciao